Il tipo di raccorta ci consentirà di raggiungere il 45% già in questi mesi che rimangono alla fine dell'anno e di fare una percentuale in più il prossimo anno. Gli obiettivi sono del 70-75%, infatti la ditta che si è giudicata in nostro servizio ha raggiunto a Montalbano ad oggi a distanza di due mesi una frazione di differenziata del 73%. Questi sono anche i nostri obiettivi e forse qualcosa in più, perché sono sicuro che i nostri concittadini sono sensibili al problema dell'ambiente e sono in grado di fare un lavoro migliore di altri comuni. Saremo il secondo comune della Basilicata e abbiamo appunto questo obiettivo sfidante, partiremo all'inizio di luglio in poche parole. La dottoressa vi ha fatto vedere il 45%, abbiamo visto i comuni del nord che fanno 45-35%, noi dobbiamo essere più grandi, noi dobbiamo fare almeno il 70%. Quindi mi raccomando, quando andate a casa, cominciate a dire ai vostri genitori che da ancora qualche giorno fanno già questo servizio, si lo sanno già e si preparano psicologicamente. Il maternato non dava la ditta senza poterlo. Vi ringrazio per la vostra attenzione, siete stati bravissimi come sempre, sono sicuro che ci darete una grande mano in questa nostra, chiamiamola, avventura, che è per noi ma anche per voi. Grazie e buona giornata.